Catturo lo perri. Allora, sei venuto a finire il lavoro della camera a gas? Finirai dove non potrai più fare del male a nessuno. Sbagliato. Ha usato l'antidoto su Joe. Devi stare alla larga da Nimbus. Berrio ti entrerà nei polmoni. Non so quanto servirà, ragazzi. Non puoi combatterlo, Berrio. Continua a farti rincorrere. Indebolerà i suoi poteri. Il gas è lo stato più instabile della materia. Il metaumano non può rimanere nebuloso. Le particelle devono risolidificarsi. Le particelle devono risolidificarsi. Non è un po' di più. Mi sonoittlei. È un po' di più. Qui iso. Grazie a tutti. Barry? Barry, mi senti? Abbiamo vinto.